La storia di un fiocco di neve, un albo illustrato scritto da Antonio Boffa che racconta la storia di un fiocco di neve che attraversa il bosco, il mare e poi la città alla ricerca di un amico. Un albo che ho trasformato in un'avventura yoga. Seguendo la narrazione andiamo infatti a realizzare delle posizioni yoga adatte ai bambini interpretando il racconto e tutto quello che succede. Ci sono le posizioni degli animali, del bosco, la posizione del pesce, dei movimenti corporei proprio per andare a lavorare sulla stabilità del corpo, sul corretto allineamento posturale, tutti i benefici dello yoga anche per i bambini. A link che ti lascio in descrizione puoi acquistare i file che riceverai direttamente sulla mail. Riceverai il file video, il file pdf con le posizioni yoga e una piccola spiegazione e il file audio dove c'è la mia voce che legge il racconto. Questo albo tra l'altro è anche molto interessante a livello tattile, è un cartonato e ci sono dei rilievi all'interno dei disegni, dei piccoli elementi, dei piccoli dettagli in rilievo, quindi è anche interessante da sfogliare, quindi da leggere insieme ai nostri bambini e quindi poi da utilizzare per un'esperienza yoga che fa bene al corpo e alla mente. Ti aspetto!